Pesco di Francesca Albanese Le campagne della chiesa cominciavano a segnare prima mattina e noi ci siamo messi qui vai in capa. Ciungi lo scardemmo, lo bezzocco che lo faccio di fai che seccate. Ci facevano assiede fuori. Cacchè, diciamo, troviamo. All'Iascio qui, ad Ascan, ad Aguandè, alla Quetcandone, all'Otec. Ci ritroviamo che la scarpa angiuta è tutta scappadata. Che da te erano quindici cristiani a mangiare. Tenemmo un tavolo lungo lungo con un vitro di cristallo. Ma mia, non sapeva c'è tanto. Voglio non sapeva la bottiglia sopra il tavolo. Cacchè se fesce un vitro. Ma mia, è che piglia la tia di piccinano o che da grossa? Perché da grossa? Deve picca e deve assè. Si fette la peste. O cotto, o crotto, o fuoco se l'è vista. Ha mostrato la lettera sotto il pietro d'attento. Non d'ingue faccio. Vedi, c'è te muovo, quando ha stuorci. Si mangia o non si mangia. Ma se ne è sul stomaco. Porto il pietro d'umbrotto. Prima, non. E dopo d'attento. Non si fa accendere la verga di sciacquette. Non si fa accendere il sanguinicchio. Ha vinto formento, appiccio la fernacida. Che ha marrastato la carne. E ha i terni che non bozziamo su qui. Se non stuorci il provolone, perché la manina non manca? T'è la sosta. T'è la capocor. Nella dos, stai chiedendo fino a ganna. S'è la battata da canarmiando. Chiedi alla nadecare. Ehi, a saperemo di chiambello, metto la tareda in dove viene. Porto la bottiglia di maschietta in me, che gli ha fatto un brindis. Questo viene nato da Cipone, alla salute di Francesco Carpone. E se faccio a voi prima bacchia? Caccaralla, caccaralla, della barba che è venuta fra l'altro. E se faccio a voi seconda bacchia? Pur io voglio fare un brindis. Alla salute di tutti i capocci, mette in mente. E tutti abbattemmo la mano, come lo fias.